Manga biascica? Manga biascica? Cosa fa? No, anche noi superiore ci teniamo all'estetica. Ah, quindi? Sto facendo esercizi. Per? Rassodare le mie labbra. Rassodi il cervello. Come si fa? Che puntata è questa? Oddio, che puntata è? Non lo so, me lo dica lei. Non è che è quell'episodio che arriva a Spatafora all'inizio della puntata e poi mi corica subito, no? No. E' quella? No. Il titolo è Manga e il suo inconscio. Ah, meno male. Allora la prepara. Torno subito. Brava. Ciao. Buonasera dottore. Si sdrai. Dove? Lo sa. No, è scomodo. Non faccia storie. Quello è un letto giapponese, un cuscino giapponese e quindi è adatto a lei. Aiuti, sembra... Vabbè, lasciamo a te. Lasciamo a te. Lasciamo a te. Aia. Faccia ora riaffiorare. Aia. Che cosa sta facendo? Sì. 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 Faccia ora riaffiorare alla sua mente i ricordi più significativi. Cosa ricorda, per esempio, dell'esame di maturità? Ehm. Dove sono? Ehm. 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 Sì. Ha letto il libro manga biascica di poesie botte da orbi? Ehm. 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 Non se lo immagina? Beh, posso tirare da indovinare. Spettacola! Che giorno domani?